Allora, qual è la situazione? Praticamente Tommaso è a casa perché l'hanno rimandato a casa la scuola? Allora, praticamente tre giorni che Tommaso ha preso freddo, lui gioca a rugby, quindi la prima pioggia l'ha presa, era vestito poco, si è raffreddato. Tre giorni a casa, tra parentesi con mio ex marito, noi siamo separati, io ho fatto un'operazione a Rino Ospedale, e mi diceva Tommaso ha raffreddore, ha un po' di tosse, comunque febbre non ne ha. Torno a casa domenica sera, io ieri mattina rimisuro la febbre come tutte le mattine ormai lo facciamo, sfebrato, dico vabbè Tommaso con la tua mascherina vai a scuola. Dopo chiaramente neanche un'ora, ci chiamano dalla scuola, venite immediatamente a prendere il ragazzino perché comunque non sta bene. Io purtroppo non potevo uscire da casa, mio marito era via Skype, tra parentesi una riunione molto importante, ha dovuto mollare tutto per correre a prenderlo e portarlo a fare il tampone a Rubano. E la pediatra ci ha mandato semplicemente un'impegnativa di un tampone normale, non quello veloce, noi stiamo ancora aspettando. È abbastanza assurda insomma la situazione, nel senso che io capisco la paura, però Tommaso era tre giorni a casa con un raffreddore senza febbre, quindi voglio dire noi mamme sappiamo anche un pochino capire che cosa ha nostro figlio, almeno io ai 14 anni che vive con me, lo vedo lontano un miglio e se ha la febbre Tommaso e non l'avrei mai mandato a scuola con la febbre ovviamente. Quindi insomma trovo tutto un pochino assurdo, sta perdendo giorni di scuola inutilmente per un raffreddore. Adesso aspetteremo l'esito del tampone, ma sicuramente negativo. Quindi in realtà con il tampone comunque in attesa blocca tutto e tutti. Eh sì, blocca tutto e tutti, anche perché comunque io purtroppo per via del covid sono rimasta senza lavoro, quindi ecco e sono a casa, per fortuna ci sono io, però se no comunque Tommaso come faceva. Nonni non ce ne sono e non oso pensare che i bambini più piccoli in queste situazioni, è veramente allucinante. Quindi o ci date dei tamponi da fare a casa a noi mamme, oppure dobbiamo cercare di trovare una soluzione un pochino più rapida. Quella di cui parlava Zaglia ieri, secondo me è ottima, il tampone rapido a scuola, che è positivo va a casa, la classe continua. Perché stiamo veramente perdendo giorni, perdendo tempo, di scuola ne hanno persa tantissima, è il loro futuro. Bisogna aiutare questi ragazzini e poi soprattutto devono continuare a farsi dell'immunità. Cioè cosa facciamo? Adesso li teniamo a casa veramente per il raffreddore? Cioè va a finire che poi veramente andiamo tutti quanti in terapia intensiva perché non riusciamo neanche più a combatterci il raffreddore, perché ormai l'immunità se non se la fanno loro a 14 anni, chi se la deve fare? Quindi ecco questo è quanto insomma. Ieri siamo stati abbastanza incasinati e soprattutto anche mio marito che al momento è l'unico che lavora, mio ex, ma insomma a me non lavoro lui ancora ce l'ha. Ecco.